Non si arresta la crescita dei contagi in Calabria. Il bollettino di ieri segna altri 234 casi positivi. Registrato inoltre al Cosenza il decesso di una 73enne e al Reggio Calabria il decesso di un 77enne con altre patologie. I casi confermati dal bollettino sono così suddivisi 44 a Cosenza, 32 a Catanzaro, 10 a Crotone, 0 a Vibo Valencia, 148 a Reggio Calabria. Il virus quindi corrispondente il Reggino, il boom dei contagi che si è registrato con 148 casi. Da segnalare Polistena nella piana con 5-9 casi di positività accertati. Ad informare è lo stesso sindaco Marco Policaro salendo così a quota 22. A Polistena nasce anche il caso dell'ospedale. Medici ed infermieri che dovrebbero stare in quarantena richiamati al lavoro, personale di altre reparti arruolato in portosoccorso a dare una mano, venendo però esposto a rischi per sé e per il resto dell'ospedale. Un impianto di reazione che sembra non godere nemmeno esso di ottima salute. Salgono a 13 invece i casi di coronavirus a Città Nova, a comunicarlo anche in questo caso il primo cittadino Francesco Cosentino, evidenziando che l'infezione riguarda soggetti di tutte le fasce d'età, a partire di una bambina di 3 anni. Salgono invece a 21 i casi covid a Gioia Tauro. Ha destato parecchia apprensione tra i genitori l'accertamento di positività di un'alunna della scuola primaria Collodi, che da settembre ospita anche alcune classi della Montale, già in quarantena da ben nove giorni.